Rassiario, sei sul podium di Milano Sanremo, cosa aspettate questo anno? Ho una formazione molto buona, spero di poter utilizzarlo in modo migliore possibile e provocare il risultato l'anno scorso. Sì, sarà difficile, ci sono molti buoni ritori qui oggi e vedremo come avremo la finalità. In Paris-Nizio ti mostri una grande forma e per oggi sei uno dei favoriti, senti la pressione? La pressione è bella, ho usato la pressione per avere persone a me e credere che posso vincere il risultato. Usa la pressione come confidenza. Oggi è buon l'anno scorso, credo che potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'anno scorso? Sì, sarà un'anno scorso completamente diverso da l'anno scorso. L'anno scorso tutto il giorno e fu molto freddo, quindi non ho mai raccogliato questa raccogliata nel sole. Ho spero di essere la prima volta fortunata.